Musica Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni sul Territorio. Abbiamo il piacere e l'onore di essere in Vescovado per incontrare il nostro Vescovo, Monsignor Renato Marangoni. Bentrovato Monsignor Vescovo. Buongiorno. Grazie per l'ospitalità, grazie per averci aperto le porte della sua abitazione per raccontare le attività che riguardano la diocesi. Cominciamo innanzitutto da quella che è l'emergenza ucraina, la diocesi fin da subito si è rimboccata le maniche attraverso la Caritas per portare aiuto a queste persone che soffrono. Sì, penso che la corrispondenza sia, la chiamo così corrispondenza perché è abbastanza corale, ci sono state tante realtà, tanti enti e noi abbiamo corrisposto anche noi con quello che possiamo. Ci sono delle difficoltà organizzative perché evidentemente ogni emergenza però abbiamo dato disponibilità, innanzitutto col centro Papa Luciani, per ospitare. ci è stato chiesto una quindicina di posti, di stanze per eventuali positivi, contagiati dunque, riscontrati tra i bambini, le loro mamme o familiari che sono qui con loro e poi abbiamo cercato anche noi di fare una ricognizione di strutture che abbiamo a disposizione, si tratterà un po' di corrispondere anche mettendo, sistemando un po' le situazioni. Ogni emergenza comporta un po' un lavoro, vedo disponibilità e cerchiamo di fare il possibile con le istituzioni. C'è stata anche una raccolta fondi che comunque già ha dato i suoi frutti importanti? Sì certo, tramite Caritas è stata lanciata anche una raccolta fondi e quindi queste sono le cose che in ogni emergenza iniziano, partono e tramite Caritas siamo anche in mani buone e sicure. Tra l'altro la comunità ucraina bellunese qui è sempre molto attiva anche con le attività che vengono portate avanti. Sì, la diocesi in particolare cura il rapporto con la comunità greco-cattolica, sono cattolici di rito orientale quindi celebrano particolarmente qui a Belluno, ma non solo a Belluno, anche a Feltre, qui a Belluno nella chiesa di San Rocco, quindi una chiesa centrale e ci piace davvero che sia nel cuore anche del territorio, questo si trovano il sabato, la domenica, adesso anche tutti i giorni, negli orari in cui chi sta facendo il servizio di badante nelle nostre case può accedere alla celebrazione. Quindi c'è un rapporto diretto, abbiamo Don Iuri che è un prete greco-cattolico di Ucraina, è qui a seguire queste comunità, fa il suo servizio anche a Vittorio Veneto, la comunità di Vittorio Veneto e anche a Conegliano. Da poco, da alcuni mesi, si è costituita in Italia una diocesi ulteriore, siamo 226 le diocesi in Italia e questa è la 227esima diocesi che non è territoriale, è cosiddetta personale, cioè tutte le comunità disperse nel nostro territorio fanno riferimento a questa diocesi che ha un vescovo che li segue direttamente. Però questo avviene nello scambio, nella comunione, inseriti nelle nostre chiese locali, nelle nostre diocesi, nei territori come il nostro di Belluno Feltre. E poi anche sabato ci sarà proprio una particolare celebrazione per invocare la pace. Sì, sabato sera abbiamo un ulteriore momento di preghiera, la situazione è molto triste, molto seria e drammatica. Le immagini che ci giungono dicono che ecco cosa produce la guerra, resti senza parole e dobbiamo davvero in tutti i sensi dire no, basta, è finita, questa storia delle guerre è solo disperazione. Domenica scorsa Monsignore si è celebrata la ricorrenza della Madonna Dolorata. Qual è stato il messaggio che lei ha lanciato anche alla comunità bellunese? Ma io ho usato un'immagine che è il volto della Dolorata, proprio quello rappresentato anche nella statua linea della chiesa di Santo Stefano. Questa immagine interessante con la doppia immagine del cuore trafitto da sette spade. è un modo molto tradizionale di rappresentare i dolori, questi dolori. Ecco, dico, ho usato l'immagine che quel volto di Maria è specchio di questa umanità. E in particolare in questi giorni, proprio perché la guerra mostra delle ferite profonde e ciò che provoca è davvero, tocca il cuore, insomma, il cuore dell'umanità, non dico semplicemente come sentimenti, come emozioni, ma proprio il centro di noi stessi, di tutta la vicenda umana. Ecco, questo è stato un po' la sottolineatura. E dall'altra parte, così, lo sguardo di fede, guardando a Maria, riconoscere che lì è un dolore, ma che possiamo considerare come un parto, che è sempre così questa storia umana. È un parto che ancora non è compiuto e ha bisogno davvero di raccogliere tutte le nostre energie e di tenere viva l'attesa e l'impegno ad aprirsi davvero a una luce nuova, a un'umanità nuova. Monsignore, questo è un periodo in cui tutta la Chiesa Universale si sta interrogando, si sta ascoltando. C'è proprio il percorso del Sinodo. Come la nostra Diocesi partecipa a questo cammino? Noi siamo entrati da subito, quindi non appena è stato possibile, pressa poco, un mese fa, siamo entrati davvero in attività, cioè costituendo dei gruppi sinodali. Sono partite le parrocchie, ma anche le associazioni, i gruppi già costituiti. Questa è stata la prima fase. Poi abbiamo tentato anche di allargare, di aprire l'invito e sono avvenuti dei gruppi, sono costituiti dei gruppi con persone che non necessariamente sono le solite che partecipano alla vita parrocchiale. Questo ci ha fatto molto piacere. Devo dire che ci ha aiutato molto. Quello che io posso cogliere dalle sintesi, perché ogni gruppo nell'ascolto vicendevole maturava anche una sintesi finale. Quello che era successo, questo viene trasmesso e poi questo verrà consegnato anche a Roma per costituire il documento di lavoro della fase conclusiva del sinodo. Ma per noi, per la nostra diocesi, quello che io vedo è che c'è una grande domanda di relazioni vere. Si sente il bisogno di non identificare questa necessità di relazioni con l'istituzionalizzazione delle relazioni. A volte se ne sente invece un po' il peso, la fatica. Si sente invece l'urgenza di una spontaneità, di una immediatezza anche di condivisione di emozioni, di sentimenti, di pensieri, di ricerche, di domande. Questo colpisce molto perché, secondo me, segnala un bisogno davvero reale. Adesso è proprio, come dire, documentato e in forma proprio corale, generalizzata, questo. Monsignore, siamo nel mese di aprile. Si aprirà a breve la Settimana Santa, un periodo davvero importante per la diocesi. Diventa importante, ma anche molto significativo per questi contesti di cui abbiamo parlato. È vero che la pandemia non si è conclusa, però la pandemia ormai è diventata un'esperienza che ha prodotto nelle persone la fatica, la difficoltà, ma anche le ha fatte pensare. Io penso che ci possa essere qualche prospettiva anche che ci fa maturare ulteriormente. In che senso? Più come comunità, che è la parte un po' più fragile, più debole delle nostre esperienze. facciamo fatica a chiederci e a dirci che è importante fare comunità, dove si condivide un destino, dove ognuno trova il suo spazio, dove non è costretto a fare quello che è improponibile, ma quello che non corrisponde alle sue risorse. fare comunità vuol dire che ognuno è riconosciuto per quello che è. Questa è la grande sfida che ci sta davanti. Mi pare che quello che è successo è la pandemia. Adesso questa vicenda bruttissima delle guerre, perché sono al plurale, le guerre probabilmente sono anche dentro di noi, e quindi anche questo fatto qui, ma poi positivamente la celebrazione della Pasqua è vedere, avere uno sguardo luminoso, uno sguardo di fiducia, di speranza, di risurrezione su questa storia umana. E non c'è storia se non c'è questa capacità di dialogo, di mettersi insieme, come dice Papa Francesco, di fraternità. Noi a Pasqua diremo che Gesù, a cui rivolgiamo la nostra fede, la nostra attenzione, è il primo genito di una moltitudine di fratelli e di sorelle. L'umanità è una moltitudine. Ecco, questa idea della fraternità è nel cuore del messaggio pasquale. Si risuscita così. La nostra realtà di Belluno-Feltre è stata sotto gli occhi a livello nazionale, non solo per un evento particolare, che era lungamente atteso, la beatificazione di Papa Luciani. Insomma, a settembre ci sarà appunto questo appuntamento, e c'è grande attesa e grande preparazione per permettere anche ai nostri bellunesi di poter partecipare. Sì, penso che questi anni, questi decenni anche di attesa, oggi vogliano dire qualcosa che fa scoperto nella sua interiorità. È un evento che parla al cuore delle persone, questo perché Papa Luciani, Giovanni Paolo I, ha colpito non perché ha fatto tante cose, ha realizzato, non ha fatto viaggi, come i papi successivi, no, ma ha toccato il cuore. Io la sentirei così, non vorrei neanche che facessimo troppo rumore, di quel rumore che si spegne subito quando non metti più in movimento le cose, ma che sia qualcosa che pian piano riusciamo ad accompagnare, a scoprire nella sua realtà più interiore, più intima, lì dove anche noi sentiamo il bisogno di ritrovare noi stessi e di ritrovare anche il senso della vita e di tanti fatti che sono capitati. Io ricordo l'elezione di Papa Luciani, eravamo in un contesto molto difficile, l'abbiamo ricordato anche qualche giorno fa, eravamo in pieno terrorismo in Italia, si era appena consumata la vicenda di Moro, e questo segno che fu Giovanni Paolo I è un segno brevissimo, ma è un accenno ad aprirsi, a sorridere, a cercare la vita, a cercare le piccole cose come ha fatto lui, coinvolgendo nelle sue udienze dei ragazzi, mettendoli, mostrando che la realtà del mondo è fatta anche di piccole cose, di semplicità e di verità delle cose. Lei accennava proprio ai ragazzi, Monsignore, anche i nostri giovani, i giovani bellunesi, attraverso un'attività della pastorale dei giovani, saranno protagonisti con un particolare pellegrinaggio che li porterà a Roma, ma non solo i bellunesi, ci sono anche altre due diocesi coinvolte. Sì, è significativo che abbiano colto subito l'opportunità di un'esperienza che sta diventando molto forte, molto ricercata, anche nei periodi penso estivi, da tante persone, quella del mettersi in cammino. Quindi, quell'andare in pellegrinaggio a Roma per partecipare alla celebrazione toglie alla celebrazione il fatto di essere una cerimonia, non è una cerimonia, e davvero si colloca nel cuore di un'esperienza condivisa ed è frutto comunque di un cammino e attiva ulteriori passi da compiere. Allora, questo andare dei giovani penso che ci ricordi e richiami a tutti noi che siamo in cammino proprio come umanità e così la intendo anche questa beatificazione di Papa Luciani è un invito davvero a non rallentare il passo e a farci coraggio gli uni con gli altri. Io ricordo quella parola che lui ha ricevuto quando è stato eletto, qualche confratello cardinale ha detto coraggio, lui stesso ripeteva questa parola. anche a me piace dirla tante volte coraggio, penso che dobbiamo condividerla e impegnarci vicendevolmente in questo darci e farci coraggio. E noi con questo messaggio finale ci salutiamo e la ringrazio davvero Monsignore per il tempo che ci ha dedicato. Auguri di Buona Pasqua A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci a tutti quanti voi